I carabinieri della tenenza di Rosarno hanno rintracciato e tratti in arresto amoroso Giovanni, di 51 anni, residente a Rosarno, già noto alle forze dell'ordine per reati associativi, il quale dovrà scontare la pena di anni, 13 e 6 mesi di reclusione per reatri di varia natura, tra cui tentato omicidio, ricettazione, detenzione e fini di spaccio di sostanza stupefacente e detenzione e porto di armi e munizionamento comune e da guerra. Tutti i fatti commessi ad Amantea, Lago, all'anno 2005-2007. I carabinieri della tenenza, in stretta collaborazione con la compagnia di Gioia Tauro, diretta dal tenente Gabriele Lombardo, in previsione dell'emminente emissione del provvedimento di cattura a seguito di condanna, avevano già da giorni attivato un'attenta attività di monitoraggio del soggetto, personaggio noto alle forze dell'ordine, per essersi sottratto in passato ad un provvedimento restrittivo a suo carico. E' messo il provvedimento di cattura dall'Ufficio Esecuzioni Penali della Procura Generale, presso la Corte d'Appello di Catanzaro. Nella notte tra il 15 e 16 dicembre, una ventina di militari della compagnia di Gioia Tauro, coordinati sul posto dal comandante della compagnia, dopo aver circondato l'isolato, hanno fatto irruzione all'interno dell'abitazione di Via Ligabue. Nel corso delle successive operazioni di perquisizione dell'immobile, i carabinieri hanno appurato che il catturando, consapevole dell'imminente provvedimento a suo carico, aveva già preparato i bagagli in attesa dell'arrivo delle forze dell'ordine, che era certo sarebbero giunti da lì a breve.